Ciao Senti, dov'è tua madre? Lei e Alexis sono andate a cena fuori e al canta con noi di grisa, perché? Perché sono pronta per la rivincita Perché l'hai fatto? Nuovo gioco, poker Vuoi giocare a poker contro di me? Strip poker Ci sto La tua puntata Credo che mi giocherò tutto Anch'io, ma mi è rimasta solo la camicia da puntare E io l'accetto Che cos'hai? Ti interessa Questo è molto meglio dello scarabeo Sì Grazie a tutti Grazie a tutti.